Che sia un'occasione per scuotere la città, così ha dichiarato il sindaco di Giarra Roberto Bonaccorsi a proposito della prima giornata di primavera sabato prossimo, l'avvio delle celebrazioni per il bicentenario giarrese. La prima giornata dei festeggiamenti vedrà tra gli altri eventi la sfilata del corteo storico del Palio dei Normanni di Piazza Armerina sarà conclusa dall'esibizione di Giovanni Caccamo, il vincitore della 65esima edizione del Festival di Sanremo. Tutte le piazze della città di Giarra saranno coinvolte, contemporaneamente si potrà udire lo scampanio delle campane di tutte le chiese. Le celebrazioni sono previste nel corso di tutto l'anno, si attendono le risorse economiche. Nell'intero anno la città verrà totalmente coinvolta, in questo momento siamo work in progress, quindi stiamo elaborando l'altra parte del progetto che culminerà poi il 15 maggio nell'attività e nella giornata principale che è quella nella quale il Comune ottenne l'autonomia amministrativa. Poi col tempo faremo un programma complessivo e lo diremo alla città. Il condizionamento dipende dalla capacità finanziaria che riusciremo a ottenere. Noi abbiamo messo in moto dei meccanismi, speriamo che gli enti a cui abbiamo chiesto aiuto ci possano corrispondere dal punto di vista finanziario delle risorse affinché la manifestazione diventa una manifestazione importante, considerata la sua unicità. 200 anni è una data veramente importante per la nostra città. Tra le manifestazioni in programma l'inaugurazione in sala Messina della mostra permanente dell'archivio Galati, viaggio fotografico nella città di 50 anni fa. Sono veramente foto d'archivio molto molto interessanti che raccontano la storia meglio di qualsiasi pagina di libro, di qualsiasi voce umana.